È stato difficile? È bello, è una bella emozione calarsi in questo contesto. Diciamo che la cosa che intimoriva di più forse era il pubblico sotto, perché non ci abituati a un pubblico di questo tipo quando ci si cala. Però no, no, è una bellissima esperienza, una bellissima serata. Ha stupito tutti per il coraggio e la voglia di mettersi in gioco, superando i propri limiti. Eccolo sulla Torre Pretoria scendere in pochi minuti in corda doppia sotto gli occhi vigili dei suoi compagni d'avventura ed un folto pubblico che si è riunito in Piazza Duomo per condividere ed ammirare la sua impresa. È Gianluigi Rosa, trentenne, atleta paralimpico, reduci dalle Olimpiadi coreane, fa parte della nazionale di hockey su ghiaccio, che ha voluto affrontare una nuova sfida in un contesto urbano. Diciamo che questo è un po' un modo per celebrare l'evento dell'anno scorso appunto sul Campanile Basso con i ragazzi di Dolomiti Open. Questo è un po' un ambiente diverso dal solito, infatti un ambiente urbano così mette forse più in soggezione rispetto al Campanile Basso, più appunto per la struttura architettonica che altro, anche se sono diversi insomma di dislivelli. Però è una bellissima avventura, questa diciamo che è proprio una bella prima volta. Prima di Gianluigi Rosa si sono calati dalla torre del Palazzo Comunale i due amici cremaschi, Marcello Palmieri e Pietro Baldrighi, in rappresentanza dei due enti promotori dall'evento, il Rotary Club Crema e l'Associazione Rinascimenti. Presenti anche i due rispettivi presidenti, Renato Ancorotti per il Rotary e Giorgio Cardile per i nascimenti. A seguire sono scesi anche i due compagni e conterranei di Rosa, Simone Elmi e Manuel Zambanini dell'Associazione Dolomiti Open. Una bella storia e un bel esempio è quello di Gianluigi Rosa, di chi ha saputo riscattarsi dalla sofferenza e dai limiti che la vita gli ha imposto. A 17 anni di ritorno in moto da una gita ha avuto un incidente e dopo due mesi di coma farmacologico si è risvegliato con la gamba amputata. Ma l'amore per lo sport e per le sue montagne, le montagne del Brenta, hanno vinto su tutto. Poi a un certo punto mi sono accorto che mancava qualcosa, che era lo sport e inizialmente col hockey, poi storia recente appunto l'arrampicata con i ragazzi di Brenta Open.